Sono ancora senza una sede gli oltre 300.000 volumi della Biblioteca dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici presieduto da Gerardo Marotta. Dal 2009, a causa dei tagli del governo e fondi per la cultura, i preziosi tomi raccolti negli anni con un'issancabile attività di ricerca sono oggetto di un calvario che non vede la fine. Testi originali di Giordano Bruno e Gian Battista Vico, esemplari rari e introvabili, sono oggi dispersi tra i depositi di un magazzino a Casoria, i sotterranei dell'Istituto Bianchi e le cantine di alcuni privati sostenitori. Un patrimonio inestimabile, reso inaccessibile e a rischio di furto e deperimento. La questione è stata al centro della Commissione Cultura presieduta dalla consigliera Elena Coccia per tenere alta l'attenzione su una vicenda che ha visto tra l'altro una massiccia mobilitazione popolare. Attraverso un comitato civico ed una petizione online, sono state raccolte negli ultimi anni migliaia di firme per restituire una sede alla storica biblioteca. Dovrebbe essere collocata in un appartamento al primo piano di Piazza Santa Maria degli Angeli, individuato dalla Regione già nel 2001 e ancora oggi in attesa dell'ok della soprintendenza per avviare la ristrutturazione dei locali. La proposta di questa Commissione è quella di fare una grande commissione con tutto il Consiglio Comunale, col Sindaco, ma anche con i referenti regionali, in particolare col Presidente De Luca e con il suo consulente Maffettone, proprio all'Istituto Filosofico. Si stanno lentamente eseguendo i lavori e si faccia un bando per archivisti affinché poi questi volumi possono essere collegati, collocati adeguatamente e possono essere anche visionati. La seconda richiesta è quella che il Ministero della Cultura svincoli immediatamente i fondi che ha vincolate da oltre cinque anni di 8 milioni di euro dal momento che ci sono 12 lavoratori dell'Istituto Filosofico che attualmente sono senza stipendio.